amici dell'hard enduro buongiorno a tutti benvenuti al pro park di genoa per la wildwood extreme 2024 evento sponsorizzato da liqui moli ctc e camponovo e gara valida per il campionato italiano di enduro estremo prima cosa da fare iscrivetevi al canale enduro blogger che sarei io e poi lasciate un commento nel momento in cui qualcosa nel video vi piace dunque in questo video il meglio della due giorni di gara classi gold silver e bronze sigla e partiamo subito a bomba per i follower sui posto d'altro gazzare 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 Non si parte prima del semaforo verde, grazie. Non si parte prima del semaforo verde, grazie. Non si parte prima del semaforo verde, grazie. 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 Ad Adesso. Grazie. 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 Fagli girare la ruota, gira davanti Il è stato un'altra copia, non? 2, 2, 3 3, 2 3, 2 4, 4, 5 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Il tuo figlio? Il tuo figlio? Come questo Sì. Vai 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 Sì No, 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 no. Oh, a nice race. Really good. Ich schwitz genau so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grande Gianni che non può mai mancare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti